Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Getta la droga dalla finestra di casa alla vista dei carabinieri, arrestato Via la spiaggia libera, al suo posto una spiaggia di lusso per i cani Pista ciclabile Fanno Fenile per i 5 Stelle fatta male e pericolosa A Pesaro torna la Coppa del mondo di ginnastica ritmica Rinnovato il consiglio direttivo della Proloco di Fanno Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale cari telespettatori di Fanno TV Quando i carabinieri hanno bussato alla porta di casa lo spacciatore ha gettato dalla finestra la droga Ma i militari che avevano circondato la casa hanno notato tutto e sono andati ad arrestarlo I carabinieri della stazione di San Giorgio di Pesaro hanno arrestato un albanese per detenzione I fini di spaccio di sostanza stupefacente e ne hanno denunciati altri 4 L'operazione nasce da un controllo alla circolazione stradale effettuato la notte scorsa a Villanova Una pattuglia di carabinieri ferma una Fiat Punto di colore rosso Al suo interno due albanesi che dopo un rapido controllo in banca dati sono stati perquisiti Durante l'identificazione il passeggero ha cercato di disfarsi di un pacchetto di sigarette contenente della marijuana Nascondendolo all'interno della portiera ma è stato scoperto dai militari di pattuglia Grazie alle banche dati, delle forze di polizia e soprattutto al patrimonio informativo posseduto dai carabinieri Sono risaliti all'abitazione del clandestino ed è scattata così un'operazione congiunta con i colleghi di Saltara Circondata l'abitazione i carabinieri hanno bussato la porta ma appena avvistati i militari Gli occupanti della casa hanno tentato in ogni modo di disfarsi della droga Lanciandola dalla finestra e sbattendo in faccia la porta i carabinieri Ma i militari erano appostati all'esterno della viletta e hanno recuperato ogni cosa All'interno dell'abitazione sono stati identificati due albanesi Di cui uno clandestino ed un rumeno erano invenuti nel giardino sul retro 12 dosi di cocaina E nella casa con tante e alcune dosi di marijuana I 5, 2 clandestini e tutti con precedenti in materia di sostanze stupefacenti sono stati condotti in caserma Al termine degli accertamenti l'uomo che aveva gettato le dosi di cocaina dalla finestra Un 26enne albanese è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti E condotto in carcere mentre gli altri sono stati deferiti per lo stesso reato in stato di libertà Al vaglio delle autorità di pubblica sicurezza la posizione dei clandestini E a Fano sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova spiaggia riservata ai cani E noi siamo andati a vedere a che punto sono i lavori Si chiama Animal Lido e sorgerà dove un tempo c'era la spiaggia dei cani Ma non avrà nulla a che vedere con ciò che fu Quello che sarà allestito qui sarà un vero e proprio paradiso per i cani e i loro conduttori Un'opportunità anche dal punto di vista turistico ed attrattivo Dato che questa possibilità può sicuramente rappresentare un motivo di preferenza Rispetto ad altre destinazioni balneari che non hanno una struttura dedicata agli amici a quattro zampe Una bella opera che va a migliorare questa parte di spiaggia, questa parte litorale Ma si dà anche una bella risposta a chi è amante degli animali Con una struttura di qualità, accogliente, ben curata E quindi che si può conciliare tranquillamente anche con le altre parti della spiaggia Corsie in acqua delimitate per il bagno in sicurezza Uno sgambatoio recintato dove i cani possono scorazzare in libertà Ma anche strutture e box adeguati alle loro esigenze Ci saranno due capanni centrali Dove al suo interno ci sarà uno ad uso di ufficio e per la gestione dello stabilimento E in un altro un bar enogastronomico per accogliere al meglio i turisti e i residenti Che ci verranno a trovare con il proprio animale da compagnia Oltre che poter stare in compagnia del proprio conduttore Per i cani ci sarà una vera e propria equip di esperti Che ha in serbo anche diverse attività mirate proprio loro C'è una programmazione già con tutte delle attività giornaliere e delle attività mensili Con un gruppo di educatori cinofili che si chiamano Brand Collaboration E che collaboreranno l'accoglienza al meglio dei turisti o dei nostri clienti Spesso e volentieri prima dei cani andrebbero educati i padroni Ma non potendo sempre garantire questo Personale specializzato e cani al guinzaglio sempre E reti di recinzione saranno la garanzia di sicurezza Anche per chi percorre in passeggiata il bagnasciuga nelle assolate giornate estive Chi vuole acquisire informazioni su questa nuova opportunità come fa? E attraverso il nostro sito internet www.animalido.it Dove si troveranno tutte le informazioni dettagliate per la spiaggia degli animali Lavori di restauro invece su una parte di mura malatestiane Che il tempo e le piante di cappero avevano danneggiato È di circa 100.000 euro l'investimento destinato dall'amministrazione comunale Per il restauro di un tratto delle mura malatestiane 91 metri del lato strada e 63 del lato ferrovia per la precisione Messe a dura prova dall'aggressione delle piante di cappero e delle erbe infestanti Fino a provocarne lo sgretolamento in alcuni punti Noi continuiamo a prenderci cura della città Lo facciamo intervenendo lungo via mura malatestiane Dove appunto le mura dei malatesti Hanno subito nel tempo Diciamo una sorta di trascuratezza Per cui abbiamo affidato dei lavori a una ditta di Roma Che si occupa di restauro Con un cuci scucci Con la sostituzione di mattoni esistenti Con mattoni vecchi che si riprendono la trama delle mura Le mettiamo in sicurezza E riteniamo anche che lo stiamo facendo in questa parte Come in altre parti il meglio che possiamo Le mura che uniscono la fortezza malatestiana al bastione Sangallo Presentavano infatti parti mancanti Che rischiavano di indebolire l'intera struttura E così anche se non è stato possibile estendere i lavori Per tutta l'altezza delle mura A causa della presenza di linee di alta tensione Della ferrovia Il prossimo 5 giugno Salvo imprevisti in corso d'opera Le mura saranno riconsegnate Nel loro antico splendore ai cittadini Così come i posti auto Nel perimetro stradale che circonda le mura Che a causa del cantiere in atto Erano stati sacrificati La pista ciclabile che collega Fanno a Fenile Per i 5 Stelle è un'opera fatta male E anche pericolosa Attraversamenti a raso Semafori a chiamata che non funzionano E sbocchi in incroci pericolosi Più che una pista ciclabile per il Movimento 5 Stelle di Fanno La pista ciclopedonale Fanno-Fenile Presenta diversi punti di elevata pericolosità Il sindaco ormai è dal 2015 che dice che questa pista sarà terminata a Pasqua Però probabilmente non ha detto l'anno di preciso di quale Pasqua sta parlando In effetti ha detto che ci saranno 90.000 euro stanziati da parte del Comune nel 2017 Per completare il pezzo qui sul ponte Che comunque già potrebbe dare sicuramente un bel aiuto Però tutte le criticità permangono Velocità elevata delle auto in questo punto costituito per lo più da rettilinei E fondo stradale fatto di breccino Non rendono per nulla confortevole la marcia su questo tratto di ciclovia Anzi a ben vedere o percorrendola proprio in bicicletta Da via trave fino al Fenile Si colgono almeno tre criticità molto pericolose Partendo quindi dalla frazione di Fanno Si arriva subito alla prima delle criticità Il cavalcavia dell'autostrada Qui ad esempio dobbiamo fermarci e dover attraversare per andare sul ponte Che scavalca l'autostrada In un punto pericolosissimo in piena curva Senza strisce pedonali E quindi a discapito proprio della propria incolumità Una volta superato bisogna nuovamente attraversare la strada Per riprendere la pista E di sera e con le macchine anche che vengono giù A una velocità abbastanza sostenuta Non è l'operazione più sicura al mondo Altro pezzetto, altra difficoltà, altra interruzione E altro attraversamento Qui viene in aiuto un semaforo a chiamata Se funzionasse Ma chiama chiama non risponde nessuno Anche questo ormai presente da alcuni mesi Ma del tutto inattivo Cioè se uno pigia il pulsante Praticamente il semaforo rimane sempre lampeggiante E non permette appunto l'attraversamento Anche l'impo rischio e pericolo della propria incolumità E Dulcis in fundo Alla fine arriva il bello Si viene praticamente sparati dentro un incrocio pericolosissimo Tra via Trave e via della Fornace Uno degli incroci più pericolosi In assoluto nella nostra città Secondo anche l'esperienza personale E quindi sia per andare verso Fano Che poi anche da Fano Per prendere questa pista ciclabile Dobbiamo attraversare praticamente in diagonale Un incrocio in modo del tutto Inappropriato e altamente pericoloso Chiediamo a questa amministrazione Di occuparsi dei reali problemi dei cittadini di Fano Compreso questo Che sembrano piccole questioni Ma sono questioni invece rilevanti Che riguardano la sicurezza Una mobilità che sia sostenibile E se parliamo tanto di Fano città dei bambini Facciamo in modo che lo diventi veramente Non restino solo parole vuote insomma Primavera al museo In uno dei borghi più belli d'Italia Mondolfo Torna con la primavera L'apertura con ingresso gratuito Ogni sabato, domeniche e festivi Del Museo Civico Punto di Mondolfo Dal 25 marzo al 28 maggio Ogni fine settimana Dalle 10 alle 12 Dalle 15 alle 18 Sarà possibile percorrere Le sale del complesso monumentale di Sant'Agostino Dove sono conservate pagine Della storia di Mondolfo e Marotta Con la sezione dedicata Alla civiltà contadina ed artigiana Allestita dagli allievi Dell'istituto comprensivo statale Enrico Fermi di Mondolfo Grazie al clima primaverile Poi sarà imperdibile La passeggiata per le vie del castello Frutto del genio dell'architetto senese Francesco Di Giorgio Martini Annoverato fra i borghi più belli d'Italia Sarà pure l'occasione per ammirare Quella pinacoteca Che è la chiesa monumentale di Sant'Agostino Scrigno di fede, storia ed arte L'ingresso, come dicevamo, al museo è gratuito Per informazioni si può visitare il sito internet Anzi questi due siti internet che vedete in sovraimpressione Torna a Pesaro invece la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica 200 ginnaste appartenenti a 33 nazioni diverse Sono attese a Pesaro per le gare Della tappa italiana della Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica Torna infatti in città L'appuntamento con il meglio di questa disciplina olimpionica Che vedrà le ginnaste Gareggiare sulle pedane dell'Adriatic Arena Per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi L'evento è previsto dal 7 al 9 aprile Mentre l'11 e il 12 sarà la volta del torneo internazionale Città di Pesaro Che vedrà la partecipazione di 23 nazioni 8 edizioni alle spalle E un appuntamento che si rinnoverà fino al 2019 Rappresentando così un ottimo biglietto da visita Per il nostro territorio E confermando l'astronave come contenitore polifunzionale Capace di ospitare eventi internazionali prestigiosi La Coppa del Mondo è sempre tanto importante Adesso poi come mai Perché con il nuovo regolamento Sono solamente 4 tappe Prima erano addirittura 10 E essere rientrati come organizzazione Nelle 4 tappe per noi è un grande risultato Ci saranno le ginnaste migliori del mondo del momento La nostra squadra italiana, le Farfalle Oltretutto avremo il torneo internazionale La settimana dopo, l'11 e il 12 Con ingresso gratuito Saranno dunque giornate tanto importanti Quanto impegnative In vista anche dei prossimi festeggiamenti Per i 150 anni di vita Della Federazione Ginnastica Italiana Passa in Consiglio Comunale a Pesero La mozione che riguarda l'obbligo di vaccinazione Per i bambini che frequentano i nidi comunali O privati convenzionati Il documento chiedeva in particolare al Sindaco e alla Giunta Di monitorare in Regione l'iter di votazione Affinché si potesse arrivare in Consiglio regionale Il prima possibile E applicare dunque la normativa Già dal prossimo anno scolastico Al termine di un ampio dibattito È stato approvato da maggioranza e opposizione Con 23 favorevoli 5 contrari Il Movimento 5 Stelle E due astenuti Santini e Dall'Asta Circa 250 persone hanno partecipato Al pranzo sociale della Proloco di Fano Che domenica ha approvato il bilancio E rinnovato il Consiglio direttivo L'approvazione del bilancio consuntivo Della Proloco di Fano Si è trasformato in un veloce pro forma Gli oltre 250 soci radunati Alla cooperativa Tre Ponti Per il consueto pranzo domenicale Che raduna le oltre 25 associazioni Di volontariato e di tanti volontari Hanno dato vita ad un grande festeggiamento Dove la gioia di contribuire Al bene della città Ha fatto sentire tutti una grande famiglia Numeri quest'anno altamente positivi Che fanno vedere proprio Un'attività importante Della Proloco in questo 2016 Ma un'attività importante Del volontariato in generale Quindi di associazioni Che si sono espresse a vari livelli 270 mila euro di bilancio Di cui un buon 40% derivante da sponsorizzazioni Sono tutte risorse reinvestite Il bilancio così è sempre in pareggio Dice Etienne Lucarelli Ora però archiviato il passato La mente si proietta già alle iniziative Alcune delle quali collaudatissime Per la prossima stagione Rimangono le manifestazioni Cercheremo di farle crescere Perché questo è il nostro obiettivo Partire dal basso E far crescere anche un po' un'identità All'interno della città Ma le parole dell'assessore Ci hanno fatto ben sperare Perché anche lui dice che crescerà L'impatto che ha la Proloco All'interno della città Naturalmente il sostegno Di tutta la cittadinanza è importante E per questo Chi vuole può comunque iscriversi Assolutamente La Proloco è un'associazione aperta a tutti E vale sia il contributo Di chi si vuole associare semplicemente Ma anche il contributo Di chi vuole partecipare attivamente Intanto per associarsi Il tesseramento parte adesso E ci si può associare in città Al Bar Aurora Hanno le tessere disponibili Quindi ci si può recare lì Il costo della tessera è semplicemente 5 euro Oppure in periferia Ci si può recare qui alla cooperativa Tre Ponti Dove al Bar hanno le tessere E questo era il nostro ultimo servizio Vi ricordo subito dopo C'è in cucina con lo chef Noi ci salutiamo qui Grazie per averci seguito Prossimo appuntamento domani mattina Alle 7.30 in diretta Con Occhio ai giornali Segnatevi questo numero Per le vostre segnalazioni Buona serata Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti